Acqua pura e trasparente, disponibile sempre e ovunque. Tuttavia, le condutture dell'acqua potabile non sono eterne. Più vecchie sono le tubazioni, maggiore è il rischio di corrosione e incrostazioni. Quando le condutture dell'acqua invecchiano è il momento di intervenire. I tubi in ferro arrugginiscono, sulle condutture in rame si formano punti di corrosione e i tubi in plastica diventano fragili. Qualunque sia il caso, le possibili conseguenze sono inaspettate. Con il crescere dell'età del materiale aumenta il rischio di perdite e danni causati dall'acqua nell'edificio. I primi segnali di problemi con le condutture dell'acqua potabile sono acqua color ruggine, residui nel filtro o inspiegabile caduta di pressione. Nel peggiore dei casi si corre il rischio di avaria totale del sistema delle condutture. Un tempestivo risanamento con Anrosan previene la costosa sostituzione delle tubature. Anrosan, richiedete subito un'analisi preventiva.